Buongiorno a tutti, io sono Romani Stefano, sono direttore dell'Orchestra Fiat e Conservatorio di Rovigo. Siamo qua oggi alla fattoria per presentare questo progetto, sempre della musica nel centro commerciale, con l'Orchestra Fiat e faremo due pezzi del repertorio musicale importantissimi, Pierino e il Lupo di Prokofiev e il Carnervale dei Nermali di Saint-Saëns. Naturalmente siamo qua con tutti i ragazzi dell'Orchestra Fiat e il nostro progetto del Dipartimento di Fiat sta continuando con molto successo con la fattoria, avremo anche poi durante l'anno degli altri eventi perché è nata appunto questa collaborazione con la fattoria, per cui ringrazio il direttore della fattoria che anche quest'anno ci ha dato fiducia perché i progetti in realtà poi ne avremo altri in futuro che sicuramente poi presenteremo più avanti e anche molto importanti. Grazie. Grazie.